Questo è un compito molto importante che ci hanno dato, hai capito? I soldi non ce ne stanno, ma ci puntiamo al caffè, hai capito? Tu sai di scrivere? Sì, la stampa te. Cioè, c'è poche differenze che è doppio, non mi trovo bene, però... Per una festa, ma una d'arte, potete dire? Va bene. Pronto? No, 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 non è chi sta. Ah, che sto giudando, è chi sta. Pronto? Sì? Chi è la sarda? La sarda? Ah, la santa! La santa! La santa! Santa Rita! Santa Rita? Sant'Anne! Santa Rosa! Sant'Anne! Santa Rosa! Eh, ma chi è la santa rosa? La santa rosa! La bella santa rosa! No, 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 non sto imbriato! Scrive! La feve sta imbriato! Sì, sì, Borbone! Borbone! No, il direttore non ci sta! E nemmeno la segretaria! E come non ci sta nessuno? E chi fa risposto? Un caffè! Ci sono io, il portiere! Il portiere mi ha aiutato! Dite! Ah, voi siete la sarta, non la santa! La sarta, non la santa! Falsa e generalità! Ah, date falsa e generalità! E come hanno fatto santa a Cristo? Sarà raccomandato! Per i santa in baravista! Dite! Sì! Ah! Sì! Per Carlo Terzo! I Pippi! Ura! Sei scema! Ah! No, no! Non dico a voi! No, no! Al mio aiutante! Scrive! Allora, per Amalia 44 e 46! E poi 54! Mi date il numero di telefono? Gentilmente! Sì! Sette, sette, sette! Sette, 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 sette! Sette, sette, sette! Sette, sette, sette! Sette, sette! 43, 44! Va bene! Va bene! Senz'altro! Sì! Ce la faccio io la masciata! Non vi preoccupate! State in mano all'arte! Grazie! Buongiorno! Buongiorno! Grazie! buongiorno, buongiorno, grazie hai scritto? ehi, ehi e fammi dire che è scritto la telefona Santa Rosa la raccomandata la fena sta ubriata al piazza Carlo III e ora si va a giugare pure 52, 54 e 44 mi è scritto la mia numero di telefono che la telefoniamo qui mi faccio dire io che la foto scriverò e Raffaele, non sono convinto questi numeri non parlano buoni ma come hai scritto tu non parlano buoni e questo è il numero questo è il numero questo è un mazzarello ma anche il mazzarello sai fa e come facciamo e sai che puoi fare mi volevo farci da mezzo beh non ha telefonato nessuno chi ha telefonato? non ha telefonato nessuno brah gli amici un caffè non ha telefonato nessuno è un mazzarello non ha telefonato nessuno non ha telefonato nessuno